eccoci a un'altra lezione di home express workout allenamenti in casa nonostante la bella giornata di sole allenamento pomerigliano facciamo un po di tenute di core per mantenersi sempre in tiro e poi facciamo dei 3 set braccia gambe addome un po misto a 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 36 kcal 114 ppm il ritmo medio del battito cardiaco con picco a 164 sembra di essere più o meno stabile su queste frequenze abbiamo fatto un lavoro di prevalentemente bruciagrassi non so che voglia dire due ore tempo di recupero praticamente tra un po po' a cena e poi posso rincominciare e ragazzi anche se le ordinanze dei vari governi e dei vari enti locali dicono che si può camminare si può fare jogging però vi consiglio di allenarvi in casa così stringiamo i denti dura poco questa situazione e torniamo subito in palestra a riallenarsi nelle nostre varie discipline ci vediamo tra un paio di giorni questa volta ho fatto un timelapse con i 40 minuti di allenamento ha iniziato era giorno ho finito e sta tramontando buon divertimento buon allenamento sdf training sempre alla prossima ciao ragazzi bello 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 Grazie a tutti.